Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La prima domanda, forse probabilmente è la più semplice o forse la un po' più complessa di tutte quelle che ti andremo a fare, o forse la più strana. Chi è Jessica Lorusso, ma soprattutto chi è Jess, ma perché nasce Jess? Allora, Jess innanzitutto è il modo in cui mi chiamano i familiari, gli amici, quindi è sicuramente un nome a me caro e difficilmente uno si sente chiamare col nome e cognome, anzi quando succede tendenzialmente a me viene l'ansia perché vuol dire o che ho fatto qualcosa di sbagliato o che c'è qualcosa per cui devo essere un attimo richiamato all'attenzione. Quindi ho preferito usare il mio nome, con cui mi sento chiamare da sempre, per identificare la mia attività cantautorale, diciamo. Jess nasce come identità cantautorale da poco, relativamente poco, perché ho iniziato a scrivere da qualche anno, ma ho deciso di uscire con le mie canzoni per la prima volta a gennaio, questo gennaio, metà gennaio, con il primo singolo. Quindi sono giovane da questo punto di vista e ho deciso di staccarmi dal mio nome e cognome perché comunque io ho una discreta, ma breve comunque, carriera teatrale, nel senso che ho iniziato presto a lavorare negli spettacoli teatrali, di teatro musicale e ne ho fatti un po' nel corso degli anni da quando mi sono diplomata nell'Accademia di Musical di Saverio Marconi a Milano. E quindi in realtà mi piace l'idea di avere quasi due personalità, che in realtà è un po' l'Italia che costringe ad avere due tipologie di personalità che distinguono il teatro, per dire, dal cantautorato. In realtà l'essere è molto più facile che gli artisti switchino da una cosa all'altra in modo anche molto agile. E quindi questo, Jessica Lorusso, mi mette sempre un po' di disagio a parlare in terza persona, però Jessica Lorusso è anche una performer, un'attrice, invece Jess è la mia anima più intima che parla di emozioni che conosce molto bene. Jessica Lorusso spesso, anzi quasi sempre, parla di emozioni di altre persone, di altri personaggi. Questa è un po' la differenza, se vogliamo vederla così. Il tuo primo singolo di debutto è Nulla, che ha fatto un grande riscontro, un grande successo. E a questo punto poi adesso partiamo con il secondo disco, il nuovo singolo, Non ci sta. Come nasce questo brano, da cosa tra ispirazione? Perché il titolo Non ci sta? Allora sì, intanto sì è vero Nulla, ha avuto un discreto successo sicuramente maggiore rispetto alle mie aspettative perché non mi aspettavo che avesse questo consenso, soprattutto perché molte persone si sono ritrovate nelle mie parole, nei mie stati d'animo. e non vedo l'ora di vedere cosa succederà per Non ci sta, questo titolo è molto didascalico in realtà perché descrive una sensazione che credo sia molto comune a tante persone, ovvero hai presente quando sei sui social e cerchi di condividere un momento di una giornata? Solitamente condividiamo i momenti un po' più patinati, un po' dove ti senti più figo, sto facendo questa cosa, la faccio vedere e Non ci sta, è tutto quello che non ci sta fisicamente dentro a un riquadro di un telefono, dentro a una condivisione. Quindi tutta la vita brutta, chiamiamola così, esteticamente brutta anche o brutta a livello di emozioni che pensiamo che siano almeno brutte e che non condividiamo con gli altri o che tendiamo a tenere nascoste per far vedere solo un lato della nostra personalità. e quindi in questa canzone c'è tutto quello che evitiamo di mostrare, quindi sono anche ammissioni da parte mia di molti lati che in realtà molto spesso cerco di tenere nascosti. E nelle copertine si vede questa differenza, mentre in nulla ci sei te, complementa questa foto ben chiara, non ci sta, si vede, intravede la tua persona. Esattamente, sì, ho cercato di appunto di differenziarle perché il concetto che c'è dietro non ci sta, volevo che sparisse la mia persona perché anche l'intera persona non ci sta fisicamente ed emotivamente in questo mondo digitale che ci siamo creati. Quindi l'idea di un'immagine che c'è ma non c'è, che non ci entra, mi piaceva. E l'emozione che si prova, tu anche reciti, però l'emozione è salire sul palco, poi salire sul palco e sentire l'energia che inizialmente la gente sta lì in silenzio e tende ad ascoltarti, ma poi comincia a emozionarsi e quindi trasmette quell'energia, che sensazione provi? È un'emozione abbastanza indescrivibile in realtà, è molto personale. Io sento proprio delle attivazioni fisiche e muscolari, provo una sensazione stranissima al basso ventre, di una palpitazione ed è fondamentalmente una sensazione di vita perché adesso è da un po' che non la provo a dire la verità, nel senso che effettivamente poi i teatri ancora non ho avuto l'occasione di tornarci in quanto attrice, solo da spettatrice, e però la ricordo molto bene ed è la sensazione di condividere con le persone proprio perché nel momento in cui le persone ti ascoltano e si immedesimano, quella è la cosa più bella secondo me, in qualche modo chi sta sul palco si sente appagato perché alla fine è come se completasse o comunque venisse a compimento il motivo per cui si sente di essere venuto al mondo. Credo che essere un artista in qualche modo sia una missione che è croce e delizia in realtà e quindi quello è il momento in cui tutto il lavoro di un artista che c'è dietro le quinte, nello studio, nella preparazione, momenti no anche, in quel momento si ha anche un appagamento del proprio lavoro che invece raramente chi poi va a teatro o comunque chi viene a vedere te dal vivo sa, non è facile vedere cosa c'è dietro, quindi quel momento in cui c'è quella condivisione è assolutamente da abbracciare totalmente. E invece la sensazione, non so se sei entrata in studio perché questi periodi per entrare in studio di registrazione è un po' complicato, c'è stato un momento in cui si poteva entrare con mascherina, però la sensazione che hai avuto la prima volta che sei entrata nello studio per incidere il tuo primo singolo, poi l'hai fatta ascoltare, che sensazione hai provato e soprattutto che faccia hai visto e che emozione hai provato quando l'hanno ascoltato? Parli del primo singolo, giusto? Quindi dell'inizio. Allora, intanto io ho la fortuna di uno dei miei migliori amici è un fonico che ha uno studio e la nostra amicizia arriva prima di questa cosa, quindi in realtà non c'è la barriera della formalità nel mio caso. Però invece quando ho fatto ascoltare la canzone per la prima volta al mio produttore che avrebbe dovuto creare l'arrangiamento insieme a me, sicuramente c'è stata un po' di ansia perché le mie canzoni ammettono molte cose e quindi sapere che una persona magari non si immagina che tu hai tutte quelle cose dentro e che le stai dicendo alla fine come ammettere delle cose scomode sicuramente crea un po' di ansia. Cantarle mi fa meno senso che farle ascoltare e vedere le reazioni, però la reazione è stata positiva perché ho avuto subito un bel consenso da parte del mio team perché mi hanno detto non cambiamo assolutamente niente di quello che hai scritto di quello che hai messo giù, semplicemente la massimizziamo a livello di suono e quindi perché di solito invece sono molto più cattivi quando porto i miei pezzi cioè giustamente ci si mette lì e si dice questa parola forse, questa frase forse potresti c'è un bello scambio, invece per quanto riguarda il primo singolo nulla c'è stata una totale e assoluta conferma del fatto che andasse bene così e questa cosa mi ha spiazzato però allo stesso tempo mi ha fatto molto piacere sicuramente Nascono prima le parole? Nasce prima la musica oppure nascono insieme? Allora in realtà veramente dipende dalla canzone per quanto mi riguarda però il 90% delle volte escono insieme testo e melodie mi metto proprio al pianoforte e inizio a buttare giù la melodia che già è intrisa di testo poi magari qualcosa lo limo, cambio delle parole però più o meno arriva già tutto insieme E abbiamo detto che parlavamo un secondo di teatro io se ti dico compagnia dell'arancia e che mi rispondi? Compagnia dell'arancia è il mio primo amore nel senso che da quando sono piccola io vado a vedere un sacco di spettacoli grazie ai miei genitori, soprattutto della compagnia dell'arancia perché è un tipo di teatro che si presta molto anche ai ragazzi e quando ero piccola io sognavo di lavorare per la compagnia dell'arancia non per una compagnia a caso quindi sicuramente fa parte del mio cuore da sempre e il primo lavoro che ho fatto quando ho finito di studiare è stato proprio per Teatro Barancaccio, Compagnia dell'arancia e della Sister Act nel 2016 e ci siamo rincontrati poi per questo lavoro, questo debutto che ci sarà appunto a maggio e Compagnia dell'arancia è il mio sogno di bambina se vogliamo metterla così e quindi aver realizzato questo piccolo, neanche tanto sogno di lavorare con loro, per loro è tanta roba per me e a questo punto possiamo benissimo dire dove sarà il debutto perché sarà nelle Marche, a Tolentino esatto, a Tolentino al Teatro Vaccai perché è la sede storica della Compagnia dell'arancia quindi loro hanno questa usanza, secondo me carinissima di debuttare nel teatro di Tolentino e poi di andare in giro per le altre città italiane quindi anche questa volta succederà così il 6 maggio debutteremo tra l'altro è molto bello il fatto che il personaggio che interpreto in realtà sia una musicista, una cantante quindi è molto vicino al mio personaggio invece fino adesso ho interpretato personaggi molto diversi da me una suora ad esempio, quanto questo è diverso da me come figura proprio però invece questa volta mi riesco a intersecare bene con questa figura, questo personaggio anche perché cade proprio nel momento di debutto di inizio mio nel mondo del cantautorato quindi in realtà è una bella coincidenza Qualc'artista a cui ti sei ispirato comunque ti ha dato quelle sensazioni in più che ti hanno permesso anche di crescere musicalmente Allora, sì, perché i miei ascolti sono molto variegati in realtà quindi il merito della mia crescita musicale non posso darla solo a un artista ma a molti artisti che seguo da tantissimo tempo soprattutto stranieri però la cosa che sicuramente ha stretto i tempi per quanto mi riguarda è stato cercare una persona italiana perché poi quando ascolti tanta musica straniera arriva un momento in cui devi dire ok, come connetto il mio gusto anglofono con invece il mio essere italiana e il voler parlare a un pubblico italiano e in realtà io lo seguo da tantissimi anni Mahmood, Alessandro e lui secondo me è un po' l'anello di congiunzione tra queste due realtà musicali e quindi il mio appassionarmi a lui come artista credo che mi abbia fatto crescere veramente tanto e mi abbia anche fatto vedere una strada per me, per il mio stile cantautorale E sogni nel cassetto? Ci sono pure? Sì, tantissimi sogni nel cassetto innanzitutto uno che in realtà più che un sogno è un progetto perché credo sia abbastanza non so se vicino ma realizzabile lo sento realizzabile vorrei far uscire abbastanza canzoni da poter avere un'oretta di concerto di modo da potermi incontrare fisicamente con le persone che ascoltano la mia musica che è la cosa che mi preme di più pensa che per ho regalato alle persone che hanno deciso di seguirmi e di supportarmi negli ultimi anni una cartolina fisica della copertina di Non ci stagli l'ho proprio mandata con le poste cioè sono andata in posta col Franco Bolle l'ho inviata perché mi manca proprio sapere avere questo contatto che si è un po' perso in questi ultimi due anni quindi sicuramente la cosa che bramo di più in questo momento è trovare questo contatto non posso dire ritrovare perché prima della pandemia non era uscito nessun pezzo mio quindi ecco il mio sogno è un po' innanzitutto creare un concerto per poter vedere con mano e anche realizzare poi nell'effettivo che sono uscite delle mie canzoni perché finché rimane tutto sulle piattaforme è sempre un po' boh sarà vero è un po' così come sensazione poi di altri sogni nel cassetto io sogno una carriera alla Lady Gaga io posso sognare in grande perché no di un'artista che si divide tra la sua musica il teatro collaborazioni con grandi interpreti lei ad esempio ha fatto questa collaborazione con Tony Bennett quindi anche l'idea di collaborare a un album jazz che è un'altra delle mie passioni è uno dei sogni che ho poi potrei andare avanti veramente tanto ma mi fermo perché alcuni sogni dai lì step by step quando se ne realizza uno si pensa all'altro io lo penso così noi ti ringraziamo per la piccola discussione il racconto che ci hai fatto e ti diamo appuntamento alla prossima volta in modo che significa che poi sperando di incontrare a Tolentino perché comunque noi saremmo lì vicino sperando di riuscire a individuare i tempi per potervi venire a vedere che sarà magari sarebbe bellissimo noi 6-7-8 maggio saremo lì quindi assolutamente sarei molto felice che ci fosse allora un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Sport Viceno grazie per questa chiacchierata meravigliosa vi auguro buona musica e buona condivisione e di far stare vi auguro di far stare tutte le vostre emozioni anche in tutte le vostre storie Instagram perché devono esserci e noi ringraziamo Alessandra che ci sta grazie Alessandra sempre lei è super carina è vero grazie Alessandra Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro sono cose della vita che ci sta a 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 Grazie a tutti.